Welcome to Devo dire che fa abbastanza caldo La cosa assurda di questa città è l'immenso casino che c'è Quanta gente devi schivare per strada Tutta quella gente te l'ama aspetta Inutile dirvi che fino a fatto quella fragola Io ho davvero difficoltà a fare la dieta in questa città Come fly with me let's float down to Peru In llama land there's a one man band and he'll toot his flute for you Come fly with me let's take off in the blue Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just fly star-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near Questa ragazza di Bianca Neda Lemony Lemony With lots of voice I kinda like this pronunciation Don't tell myself Don't tell myself Just say the words and we'll beat the birds down to a book of faith It's perfect for a flying honeymoon they say Come fly with me let's fly let's fly away Come fly with me let's fly Molti di voi mi hanno detto che nel video di prima dove ridevo sembrava la voce di Mara Allora Mara io ti invito a venire qua a New York E stare un po' qua Che dice Giulia ha trovato un ristorante bellissimo e buonissimo Lo dobbiamo ancora provare Vi faccio vedere Ci manca Sara Ciao Il concerto io ho ben pensato di fare una passeggiata mentre fuori ci sono 33 gradi Che marrà uno dei posti più significativi di New York Che marrà uno dei posti più significativi di New York Per un toro Per un toro Quanti gradi fuori ci hanno accontentato E' vero Giulia? Qua dentro quanti gradi ci sono? Ci sarebbe intorno almeno 5-6 gradi Canteremo giustamente qui E' vero Giulia Il soggetto sarà in questo posto molto bello Appena finito le prove E' andato molto bene Devo dire che l'aria condizionata dentro è meno fredda E' ci vediamo dopo Sono nel camerino tra poco che inizia il concerto Volevo farvi vedere qualcosa Vediamo se riesco E' molto emozionato Tutto finito Vi metterò qualche video dopo In questo momento ci stiamo rifucillando Giusto Giulia? Peps! Peps! Che cercano di trovare l'uscita E l'uscita Non è di qua Che cercano bella Dic See! Manè che... Che cercano di trovare l'uscita agesse Che меньancy per modo Tutto Perandidò Che cerano di trovare l'ecaria Ci sono davon EM occhio Grazie a tutti Cinque grazie 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 Cinque grazie